grazie io vi giuro che sono perseguitata ma poi sto veramente rivalutando le persone perché non ho più parole vabbè vi faccio un esempio vabbè oggi ho perso un piercing capite capirai proprio mi sia staccato quindi ho dovuto rimetterlo dentro ma questo mi capita spesso quindi niente di che però una cosa in più qualche giorno fa vengo a scoprire tramite la clinica che sta tenendo il mio cane che appunto il mio cane è in clinica mi scrivono il tuo cane è qua da noi ma testa di cazzo a parte che io dico ma uno può essere professionale mandarmi una foto del mio cane vabbè perché ovviamente io non vivo dove il mio cane è al momento in quel momento poi oggi così da nulla mi scoppirono due dico due ragazzi cioè con quale probabilità due gomme della macchina io boh cioè mi boh scoppiato proprio detto che cazzo è successo staccato la macchina vabbè vado piano piano perché ovviamente avevo delle robe di valore in macchina non posso chiamare il carro attrezzi perché prima porto via le cose di valore no vado due all'ora per cercare di tornare appunto nel posto dove posso chiamare il carro attrezzi la gente nel mente ragazzi non si affianca a me mi fa video io dove ovviamente come andate avanti ma che cazzo fai ma porco zio magari mi fermo uno mi fa e le gomme bucate vabbè capitano non l'avrei mai detto sono andato due all'ora con le quattro frecce cosa dici tu e la gente faceva i video uno addirittura si è affiancato si è fermato davanti a me è pericolosissimo perché ovviamente io ho le gomme dicevo una tipa mi si ferma davanti alla mia macchina scende dalla macchina mi chiede mi fai un video a non so chi cazzo io avevo la mascherina tra l'altro perché metto la mascherina in macchina io la guardo ma che cazzo stai facendo ma porco zio ma non lo vedi che c'è la macchina a terra io raga bo veramente mi sa cioè dico veramente che la gente cioè sono un umano ma porco cane ma mi puoi rompere i coglioni mentre c'ho la giornata di merda tu mi vieni a chiedere un video cioè poi con la macchina che mi fuma io bo raga non ho come non ho vera comunque chiunque sia che mi sta facendo un malocco perché ho già capito che sono due persone cioè ce ne sono solo due nella mia vita che possono essere così troie cioè mi hanno fatto una vita cioè vi giuro vabbè mandatemi da uno stregone ragazzi ditemi chi è lo stregone migliore che ci sia qua in questa zona perché veramente c'ho delle sfighi ultimamente che non avete idea cioè mi è morto il mio cavallo un mese fa che era la cosa più importante della mia vita cioè vi giuro la cosa più importante che avessi nella mia vita il mio cane in clinica altri sfighi che non vi sto neanche a raccontare che mi hanno fatto delle cattiverie in queste due settimane che non guardano che sono ancora rimasta traumatizzata e cioè no non so io sono una persona così buona non so veramente cosa cosa perché io non so perché l'anno scorso uguale questo periodo ero mai e mi sono venuta andare alla stregona perché non sapevo più dove sbattere la testa cioè qualsiasi cosa ci aveva una sfiga e meno male ragazzi che non ho ancora preso la corona ma meno male ma perché adesso probabilmente lo prenderò raga comunque non c'entra un cazzo la chiesa dal mio punto di vista perché io vado in chiesa più volte possibile alla settimana vivo in casa con 800 rosari che sembra una cioè le ho ovunque guarda uno qua uno di là uno attaccato dietro sopra dove c'è la cucina cioè le ho mille non è Dio perché io c'ho una come si dice un rapporto bellissimo con Dio non è il karma perché sono una persona buonissima cioè per dirvi settimana due giorni fa ho salvato una lepe per dirvi non so neanche chi viene fatto ragazzi questo è Mallocchio si chiama Mallocchio non c'è altra spiegazione non so neanche come funziona so che mi hanno detto anche che è pericoloso parlarne ma anche se non è che ci credo più di tanto queste cose a parte di parlarne però questo è Mallocchio ragazzi questa è l'invidia della gente che mi sta mandando l'invidia non c'entra niente la chiesa dal mio punto di vista però c'è qualcuno se ne sa meglio di me che me lo faccia sapere ho fatto la cartomante perché a Miami è pieno di cartomante allora ero talmente disperata che sono andata lì cioè cazzo la mia ametista non l'ho messa adesso la tiro fuori detto ciò quello che sto dicendo è che io credo che ci sia qualche zoccoletta che mi sta mandando l'energia cattiva capito? cioè non credo agli stregoni queste robe qua so via grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti